Paolo Fox, l'oroscopo di oggi lunedì 13 maggio. Le previsioni segno per segno. Amore, lavoro, benessere, fortuna. Cosa dicono le stelle secondo l'astrologo più famoso della tv? L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 maggio. L'astrologo più famoso della televisione. Ogni giorno dalle sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. La luna è in aspetto favorevole e secondo Paolo Fox vi permetterà di esprimere appieno tutta la vostra creatività e anche una grande voglia di fare, di impegnarsi. State per cominciare una periodo che promette bene. Le nubi spariranno improvvisamente dal vostro cielo per dare spazio alle nuove opportunità, ai progetti e alle riconferme. La stagione estiva non è ancora vicina, ma Fox vi anticipa che saranno mesi favorevoli per le coppie che non stanno attraversando un buon momento e per i single che vorranno rimettersi in gioco. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Toro, 20 aprile, 20 maggio. Purtroppo sarà un lunedì che inizierà con un transito della luna dissonante. Paolo Fox vi consiglia di riposarvi o meglio di rilassarvi. Dopodiché, a mente più lucida provate a concentrarvi sui sentimenti. Probabilmente chi è in coppia riuscirà a risolvere alcuni problemi, ma anche per i cuori solitari che auspicano nuove conoscenze interessanti, ci sarà qualche incontro intrigante, d'altronde venere è nel vostro segno. Basta perdite di tempo, che si parli d'amore ed amicizia o di collaborazioni lavorative che non vanno, è giunto il momento di interrompere le relative relazioni. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Gemelli, 21 maggio, 20 giugno. Gli astri sono favorevoli in questo inizio di settimana per quanto concerne le relazioni d'amore o per eventuali incontri. Secondo l'oroscopo del giorno chi ha chiuso di recente una storia d'amore può essere fiducioso. Infatti, se c'è la voglia di rimettersi in gioco, potrebbe conoscere e frequentare una persona molto interessante, capace di catturarvi con il suo fascino e farvi dimenticare in men che non si dica l'ex. Fase positiva e stimolante sul fronte lavorativo. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Cancro, 21 giugno, 22 luglio. Sarà una giornata illuminata da buone stelle che vi doneranno la forza, la grinta e la determinazione per recuperare la serenità che ha marcato assente negli ultimi tempi. Giove è attivo e vi invoglia, anzi, vi spinge a ribellarvi, a reagire contro chi vi ha fatto ingoiare brutti rospi. È tempo di farvi sentire, di far valere le vostre ragioni con coraggio, determinazione e tanta convinzione. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Leone, 23 luglio, 23 agosto. Buone notizie. La luna entra nel vostro segno e vi donerà positività e un'ampia razione di energia. Paolo Fox ricorda che negli ultimi tempi avete incanalato quasi tutte le vostre energie in pensieri e azioni controproducenti, il che vi ha reso anche molto agitati. Finalmente potrai recuperare e guardare al futuro con maggiore ottimismo. Difatti, dalla fine di giugno Giove torna favorevole e allora partirà davvero un forte e rapido recupero. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Vergine, 24 agosto, 22 settembre. Come per il Leone ma con modalità diverse, sarà un buon lunedì anche per la Vergine. Tante novità positive arriveranno anche nel corso della settimana. Occhi aperti e vigili, vi si presenteranno delle ottime occasioni da cogliere al volo e che, se mancate, potrebbero non ripassare più. Se ci sarà da prendere una decisione sul fronte lavorativo, fatti guidare dall'istinto, anche perché protrarla al mese successivo potrebbe non avere più lo stesso effetto. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre. Paolo Fox vi ricorda che molte tensioni erano venute alla luce ad aprile, e che in quest'ultimo periodo vi siete tanto impegnati per liberarvi da diversi macigni che gravavano sulle vostre spalle. Continua così, ma senza eccessi o esagerazione, soprattutto per quanto concerne l'amore. Utilizza queste giornate per guarire da ogni sentimento di rivalsa che è rimasto ancora imprigionato dentro di voi. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Scorpione, 23 ottobre, 21 novembre. Paolo Fox vi invita ad essere molto prudenti e di agire con cautela tenendo bene aperti gli occhi, in famiglia come in amore soprattutto. Non toccare argomenti delicati ed evitate di polemizzare. Deve restare calmo, non agire di pancia. Fortunatamente il 23 Venere non sarà più ostile e il 25 toccherà a Giove contrario uscire di scena. A quel punto la vostra vita comincerà a migliorare in modo molto tangibile. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Molti di voi sono stati un po' insofferenti negli ultimi giorni, in quanto hanno subito delle imposizioni sul fronte lavorativo o in amore. Siete alla frutta, non ne potete più. Avete un grande desiderio di liberarvi da questa situazione e percorrere senza ostacoli la strada che vi soddisfa. Paolo Fox vi ricorda che i progetti di lavoro nati l'anno scorso avranno uno sviluppo importante nei prossimi giorni. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Finalmente una svolta, non solo la Luna non sarà più contraria, ma ci saranno stelle favorevoli al vostro segno. Secondo l'oroscopo del giorno per godere di una maggiore tranquillità bisogna anche metterci del proprio. In questo caso significa di evitare discussioni da cui potrebbero molto probabilmente uscire delle polemiche insane e poco costruttive. Chi è impegnato in una sfida nel lavoro, avrà tutte le carte in regola per avere la meglio entro metà giugno. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Acquario, 20 gennaio, 19 febbraio. Con la Luna in opposizione ci sarà da stare attenti in amore, misurate le vostre parole e soprattutto agite con cautela. L'impresa non sarà da poco, visto che Venere non vi dà pace. Stat calmi, pensate che dopo il 23 il pianeta diventa attivo e positivo. Stat vivendo ancora tensioni e affrontando problemi, a partire dalla fine di maggio potrete risolvere il tutto. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Pesci, 20 febbraio, 20 marzo. Sarà una giornata che stimolerà le riflessioni secondo l'oroscopo di Paolo Fox. Certe situazioni e punti interrogativi non vi stanno più bene. Avete voglia di concretizzare e di ricevere risposte o riconferme. Qualcuno di voi potrebbe aver vissuto un piccolo dispiacere, una delusione o magari ha perso un punto di riferimento importante che lo rende più instabile e insicuro. Sul fronte lavorativo, maggio consentirà di chiudere più accordi. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Acquario, 20 gennaio, 19 febbraio. Con la Luna in opposizione ci sarà da stare attenti in amore. Misurate le vostre parole e soprattutto agite con cautela. L'impresa non sarà da poco, visto che Venere non vi dà pace. Stat calmi. Pensate che dopo il 23 il pianeta diventa attivo e positivo. Stat vivendo ancora tensioni e affrontando problemi, a partire dalla fine di maggio potrete risolvere il tutto. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2024. Pesci, 20 febbraio, 20 marzo. Sarà una giornata che stimolerà le riflessioni secondo l'oroscopo di Paolo Fox. Certe situazioni e punti interrogativi non vi stanno più bene. Avete voglia di concretizzare e di ricevere risposte o riconferme. Qualcuno di voi potrebbe aver vissuto un piccolo dispiacere, una delusione o magari ha perso un punto di riferimento importante che lo rende più instabile e insicuro. Sul fronte lavorativo, maggio consentirà di chiudere più accordi.